bentornati bentornati sul canale giorno dopo la direi l'imperiale l'imperiale affermazione dell'inter sul sull'atalanta anche dopo un match come quello di ieri in cui francamente c'è stato c'è stata una sola squadra in campo ieri nel dopo partita vi avevo parlato soprattutto di un primo tempo chiuso dall'inter con un punteggio avaro 2 a 0 considerando che tante occasioni anche potenziali non sono entrati negli alites ma ne cito una su tutte ancora sullo 0 a 0 Lautaro imbeccato in area di rigore invece di stoppare e calciare prova il tiro di drop appena in area di fatto a tu per tu col portiere la sparacchia alta parliamo di un tiro con lo specchio totalmente aperto e davanti da solo carne secca poi c'è il gol fallito da Darmian c'è la traversa dello stesso Lautaro e ci sono i due gol cioè parliamo di occasioni veramente clamorose non è che parliamo di cross che sarebbero potuti diventare al cospetto di un'atalanta che ha pressato ha messo in difficoltà l'inter soprattutto nella costruzione di gioco nei primi 10-15 minuti ma a quello si è limitata non è che abbia costruito situazioni enormi togliendo l'azione confusa del gol annullato ma anche lì il falo è talmente netto che il vero errore è non vederlo live cioè i casi da mogliola, i casi arbitrali live sono tutti andati passati nel termine avverso all'inter contro l'inter non a favore poi è dove intervenire il VAR di Paolo peraltro mio concittadino per ristabilire il corretto andamento dell'incontro però il fallo di Miran ciocchi di braccio si sarebbe potuto vedere anche live che poi è bravo a non fischiare a non assecondare la sbandierata inopinata del secondo assistente Zingarelli che imbarba a qualunque tipo di protocollo da quando è in vigore la VAR alza la bandierina e rischia di far cancellare l'azione che poi porta al calcio di rigore corretto per l'inter e lì l'albero avrebbe potuto vedere anche lì il braccio di Atebur è chiaro che è condizionato pure lui dal fatto che l'assistente alzi la bandierina e quindi parte già in testa con l'idea che l'azione fosse finita però è bravo a non cadere in tentazione e quindi a non fischiare immediatamente ma aspettare che l'azione termi perché? perché avesse fischiato prima del tocco di mano di Atebur e quell'azione sarebbe stata invalidata nonostante la palla e tutti gli effetti fossero rimasti in campo e allora poi che cos'altro? Ederson non meritava il rosso che fa due interventi da secondo giallo e viene graziato e Touré no, Lokman che entra come un macellaio su barella da tergo a partita ampiamente finita e viene graziato col solo cartellino giallo Touré che da una scarpata a bastoni non viene ammonito e viene ammonito dopo e quindi sarebbe... cioè andare a pesa... cioè col mero di giudizio dell'ammunizione di Darmian e bastoni l'Atlanta sarebbe rimasta in otto questa è la verità l'arbitro nemmeno vede quello che poi è stato chiaro per fortuna al monitor quindi direi che se c'è qualcuno che si sarebbe dovuto lamentare di questa terza arbitrale non è certo né Gasperini né tanto meno per Cassi però sappiamo la linea dell'Inter è quella di non parlare quando gli episodi arbitrali addirittura decidono il risultato contro l'Inter figuratevi se questi episodi che comunque ci sono stati poi non hanno inciso sul risultato mentre dall'altra parte si fa sempre lo show abbiamo visto Meluso, abbiamo visto Sogliano no, ma solo per la stare a quest'anno ma anche negli altri anni spesso tanti cuor di leone diventavano tali nei post partita con l'Inter in altre gare invece sono spariti totalmente ieri più che show è stato veramente un film di fantascienza io credo che tra Gasperini e per Cassi abbiamo prodotto una recitazione degna del miglior film di fantascienza forse si volevano candidare per la prossima statuetta non lo so quantomeno tra i due per Cassi sbagliando in maniera clamorosa prendendo cantonate ovunque perché è stato veramente imbarazzante la negazione della realtà è stata veramente imbarazzante quindi nemmeno puoi pensare a una strategia no? vabbè è andata così questa non abbiamo niente da perdere cosa ci possiamo guadagnare ma guadagniamoci qualche credito arbitrale no? perché poi questa è la mentalità italiana andiamoci a guadagnare qualche credito arbitrale visto che non c'è stata partita per le prossime partite mi mettiamo pressione agli arbitri no? ma è stata talmente sguaiata e fuori da qualsiasi logica la reprimenda di per Cassi che secondo me non vale nemmeno questo discorso della strategia è stata veramente una roba ubriacante ubriacante per chi l'ha ascoltato ubriacante perché ne esci intontito non sai più raccapezzarti perdi l'orientamento come fai a negare il tocco di braccio di miraggio? lì puoi dire qualunque cosa puoi dire è involontario il regolamento fa schifo l'arbitro mi sta antipatico ma Colombo chi? conosco solo Colombo delle Americhe puoi dire quello che vuoi ma non puoi dire che non tocca c'è cribbio ci sono le immagini si vede ci si muove pure la per Cassi come abisso per Cassi come abisso però quantomeno è andato giù dritto sbagliato totalmente ma ha detto le cose anche sul anche sul sul rigore per l'Inter non si è capito dove andare perché non era da rigore quello lì la palla non era uscita l'assistenza eh sì ma non arbitra l'assistenza cioè l'arbitro l'assistente assiste poi è l'arbitro che decide finché l'arbitro non fischia la palla in gioco è a me francamente talmente contemporaneo il cross di Denfris con la sbandierata del guardaline che non credo che Atebor fosse stato condizionato da no Atebor va così perché sbaglia poi vogliamo ragionare su ritorno alla volontarietà involontarietà del braccio d'accordissimo perché per me cross l'avvicinato quello fa così girandosi non è che che allarga le braccia le alza oppure a me non piacciono questi rigori ma è rigore per il regolamento attuale sì come è fuori gioco quello dell'incrocio se hai il naso davanti sì punto cioè non è che c'è stata andata di scudo quindi totalmente fuori fuori controllo per Cassi fantascienza pura quanto meno nella 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 sua parzialità e nella nel suo errore delirio totale è stato onesto nel senso ha detto quello che è invece Gasperini boh cioè io francamente un personaggio come Gasperini sarà che non lo so da quel punto di vista io ci ho avuto a che fare anche in quel breve una breve brevissima parentesi all'Inter è stato uno degli allenatori con cui proprio non mi ci sono trovato per nulla molto arrogante molto altezzoso senza poterselo permettere tra l'altro senza poterselo perché poi quando uno dice eh però non ha mai avuto squadre per vincere lo scudetto eh ci sarà un motivo pure io non ce l'ho mai avuto le squadre per vincere lo scudetto non è che che possiamo utilizzare il beneficio del dubbio per qualunque persona che non ha avuto evidentemente non se l'è meritato cioè se c'è chi ancora fa il direttore al giornaletto della scuola eh però non ha mai avuto non ha mai diretto il New York Times eh beh sì Gasperini c'ha avuto una squadra che ha vinto tutto e metteva Zanetti cambiasse a fare gli 80 metri davanti e indietro il pendolo dopo 20 minuti li hanno scoppiati metteva Castagnos a fare la punta con Forlano esterno-sinistra cioè non voglio dire facciamo stare non è questione eh prima la difesa 3 era vista come no dipende come la fai dipende come la fai dipende se convinci i giocatori perché è arrivato Conte ha convinto tutti la difesa 3 ha subito funzionato quindi molti alibi capisco io poi la delusione per non aver fatto lo scalino non aver superato quello step ma evidentemente il livello di Gasperini è quello peraltro buonissimo livello è cioè qui non è che bisogna disconoscere perché uno si comporta in una certa maniera o ha determinato atteggiamento o ha del rancore verso la squadra che bisogna disconoscere il lavoro quindi un allenatore di buonissimo livello è il livello però è quello lì non ha fatto il salto l'occasione ce l'ha avuta e l'ha fallita non solo per colpe sue chiaramente ma anche per colpe sue perché da quello che quando lui parla non si assume mai mezza responsabilità nemmeno mezza nemmeno mezza nemmeno dire ho sbagliato andrà lì niente proprio i due hanno fatto tutto bene gli altri hanno sbagliato tutto e questo vi dà anche l'indice che se tu non impari errori resti lì con tutto rispetto per l'Atalanta ma l'Atalanta con il Real Marino nel Barcellona eccetera eccetera e però che voleva dire conferenza a parte non ha parlato alle tv parlava solo per casi la sceriffata e vabbè poi con quel sorriso ma che terino ma poi Gasperini in conferenza partita anomala giustamente un collega gli ha fatto la domanda sì ma anomala perché eh non so se voi non avete avuto la stessa mia impressione magari sull'autosolire sì ma in che cosa no perché tu lasci intendere così cioè tu lasci intendere che è una partita stata una partita condizionata in qualche modo e che è stata una partita che non era stata esattamente regolare perché poi quando dice diventare un allenamento non è che lo dice com'è talmente brava lì cioè non ha fatto mezzo mezzo complimento all'Inter non l'ha fatto mezzo quantomeno per Cassi comunque l'Inter grandissima squadra eccetera nemmeno l'apparenza non ha detto nulla partita condizionata partita condizionata detto partita anomala 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 perché avete preso quattro pere e pensavate cioè non lo so che pensavate anomala perché dopo dieci minuti che sei andato a mille è finita la benzina e sei uscito dal campo anomala perché magari senza De Rune a centrocampo Atalanta fa molta più fatica anomala perché confermati Coppemainers De Keteler in attacco invece di fare una turnazione avendo Scamacca Luckman eccetera eccetera evidentemente scelte non proprio azzeccate perché l'Inter l'ha fatto affetto l'Atalanta praticamente Inzaghi ha umiliato Gasperini non vuole essere il termine umiliare non vuole essere dispregiativo o insultante è perché per quello che ho visto io tatticamente Inzaghi Gasperini 10 a 0 perché Inzaghi ha letto la partita basandosi sulle mancanze dell'Atalanta e rivoltandole a proprio favore arrivando a far toccare i picchi di valore di rendimento ai suoi singoli altissimi al contrario l'Atalanta è andata come leggendo il solito spartito prendendo sberle questo è quindi umiliare in questo senso però dille le cose cioè se devi dire qualcosa dilla fai come il tuo dirigente e invece si è tenuto come in pieno stile italico nell'accezione negativa lì dice la cosa però poi non la vuole approfondire dice a metà episodi arbitrali no io non ne parlo ne parlo solo quando vinco e quindi che vuoi dire cioè questo è il livello questo è il livello allora o hai il coraggio di dire le cose oppure appunto è inutile che torni sempre e all'inter e all'inter e all'inter ci sarà un motivo però bello eh sto film di fantascienza prossimamente nelle sale un saluto un saluto un saluto